Come è stata la mia infanzia schifa e che cosa facevano i miei genitori e compagnia bella, prima che mi arrivasse, che eri agressivo e tutte quelle bagionate alla Delt Copperfield, che a me non mi va proprio di parlarne. Primo quella roba mi secca e secondo ai miei genitori gli verrebbero un paio di infarti per uno se dicessi qualcosa di troppo personale sul loro conto. Sono tremendamente suscettibili su queste cose, soprattutto mio padre, carini e tutto quanto, chi lo nega, ma anche maledettamente suscettibili. D'altronde non ho nessuna voglia di mettermi a raccontare tutta la mia dannata autobiografia e compagnia bella. Vi racconterò soltanto le cose da matti che mi sono capitate verso Natale, prima di ridurmi così a terra, da dover venire qui a grattarmi la pancia. Questo è il giovane Holden.